È un coro formato da pazienti oncologici, dai loro familiari e da operatori sanitari. È formato da una ventina di elementi, per esempio un repertorio che va da Mina, Lucio Dalla, fino a Marco Mengoni e Giodato, con la missione di trasmettere un messaggio di forza e di speranza, sostenendo la ricerca scientifica. Il FAC Cancer Choir, nato da un'idea della biologa Stefania Crillari e dell'oncologa Federica Grosso, dopo una serie di tappe in diversi comuni della provincia, è arrivato anche a Dovada, ospite dall'associazione Vela. Il coro è nato nel 2019, su una nostra iniziativa, su una mia idea un po' pazza da lei subito realizzata, ed è un coro che unisce pazienti oncologici, familiari, caregiver, ma anche operatori sanitari, e vogliamo trasmettere un messaggio positivo. Oltre al cancro guardiamo oltre e vogliamo trasformare tutto il nostro impegno in energia positiva per affrontare meglio la malattia, le cure, ma anche i percorsi di chi sta vicino ai pazienti affetti da tumore. E come secondo obiettivo, non meno importante, organizziamo e partecipiamo a eventi, iniziative, concerti, che ci permettono di raccogliere fondi che poi utilizziamo per la ricerca scientifica o per altre cause importanti. E siamo qua oggi a Ovada, grazie anche alla nostra corista di Ovada, che è Selene. Ci tenevo tanto che il coro divasse anche qui fino a Ovada, noi siamo molto ad Alessandria, a Casale, ma speravo che in qualche modo il coro venisse conosciuto anche in questa zona, perché è fonte solo che di gioia, nonostante tutto ci permette di sfogarci e porta soltanto emozioni positive, quindi sono molto contenta. Per l'occasione è stato presentato il libro Spiegami questa strada, in cui i coristi raccontano le loro storie. Una serie di storie, quelle che toccano decisamente, che danno un'impronta non solo di sofferenza, perché sarebbe sbagliato dirlo, ma anche di speranza in questo senso, di queste persone che hanno vissuto in prima persona, sia sul campo come lavoratori, sia come malati, sia come caregiver e accompagnatori di questi malati, hanno vissuto l'esperienza di una malattia molto importante e grave. Recentemente il coro è stato ricevuto in Vaticano da Papa Francesco, che ha particolarmente apprezzato l'iniziativa. Mi ha commosso il lavoro che svolgete per coloro che soffrono di malattie crudeli come il cancro, ha detto il Papa. Oltre alla medicina sapete integrare nella cura due componenti fondamentali, la vicinanza e la tenerezza. Andate avanti!